E what's up a tutti ciurme e benvenuti da Gikirini in questa nuovissima reaction Quest'oggi, signore e signori, dobbiamo tenerci belli saldi sulle nostre sedie perché è stato mostrato un nuovo trailer di Senua Saga Hellblade 2 all'Xbox Game Showcase che c'è stato pochissimi giorni fa Io lo showcase appunto, ragazzi, di Microsoft non l'ho seguito quindi non ho visto nulla di quello che è stato mostrato fra cui ovviamente questo trailer che mi son tenuta ben da parte per poter appunto registrare questa reaction Chiunque mi conosce da tanto tempo sa benissimo che io Hellblade Senua Sacrifice l'ho portato come serie qui su YouTube è stato sicuramente uno dei giochi che più mi son piaciuti perché è un gioco davvero, ragazzi, incredibile per l'epoca comunque, adesso non ricordo di preciso quale fosse l'anno di uscita ma comunque per quegli anni la grafica per esempio appunto di Hellblade era già qualcosa di pazzesco quindi per allora forse una delle cose più belle che avessero fatto dal punto di vista della grafica attualmente da quello che già un po' si è visto, ragazzi, di questo Hellblade 2 sembrerebbe essere la stessa identica cosa però ai tempi di oggi quindi stiamo parlando, ragazzi, di un prodotto veramente incredibile e non parlo soltanto ovviamente a livello di grafica ma proprio a livello di contenuto perché a me Hellblade era piaciuto da morire sapete che io di solito appunto non sono una di quelle che fa caso solo ed unicamente al comparto grafico ma che fa caso soprattutto le emozioni che è capace di darmi un videogioco e Hellblade è stato uno di quei giochi capaci appunto di emozionarmi davvero tantissimo un gioco che ricordo tuttora soprattutto a livello emotivo e quindi se qualcuno se lo stesse chiedendo ho ovviamente un hype assolutamente immenso per questo Hellblade 2 che ovviamente sarà esclusiva Microsoft spero che quando uscirà il mio PC, ragazzi, sarà capace di reggerlo perché non so se lo metteranno disponibile su Game Pass non so se l'hanno rivelato in questo trailer o meno o se già si sa, sinceramente non lo so in ogni caso, oppure se dovesse essere disponibile bisognerà vedere, ragazzi, quali computer saranno ovviamente in grado di sostenere un gioco simile perlomeno a livelli accettabili quindi spero che per quando uscirà il mio PC lo sarà quindi io direi di non perdere più tempo di andare a guardare questo trailer che dura più di 4 minuti ovviamente cercherò di parlare il meno possibile e quindi i pareri li lasceremo per dopo il trailer è di Ninja Theory questo footage sembrerebbe essere stato registrato in-game ma? ma? she can feel them slipping through her soul following the threats of her mind she is here to find them the ones who hide she needs their help with a promise a question but it's never so simple is it? oddio, oddio, oddio quindi è un trailer gameplay ma ancora ragazzi le voci non una caratteristica del primo queste voci che senti sono What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Senua. Watching? More than one. I know you. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. It is too much. A mad woman. Their eyes everywhere. Can feel the boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Him. Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Not anymore. The poor. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? What is that? What is that? They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? To be all. Touch it. Touch it. And be all. You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Or those you've led to death. Okay. Questa è la risposta che stavo cercando. Uscirà l'anno prossimo. E sarà giocabile al day one. Col game pass. Che dire. Questo trailer non aveva sottotitoli. Io fortunatamente sono riuscita a capire quasi tutto quello che dicevano le voci. E quello che le ha detto. Insomma questa voce più imponente. E il fatto che ci siano. Questa appunto era una caratteristica come stavo dicendo prima. Che si riscontrava anche nel primo Hellblade. Queste voci che parlano. Che parlano ovviamente nella sua testa. Quindi come se parlassero nella tua di testa. Perché te le fanno girare e spostare da destra a sinistra. Da sinistra a destra. Quindi veramente come se ti stessero trapassando il cervello. E quindi hai queste voci che continuamente ti parlano. Continuamente ti dicono qualcosa. Quindi da un lato te fa anche un po' ragazzi. Immedesimare in quello che vivono persone che hanno disturbi simili. Quindi molto immersivo. Che dire ragazzi di questo trailer. Si vede poco e niente. Ma poco e niente fino a una certa. Perché già solo in questi quattro minuti abbiamo potuto apprezzare la magnificenza che avrà questo gioco. Sia a livello grafico. Perché ovviamente sarà uno spettacolo per gli occhi. Sia per esempio a livello musicale. Ragazzi veramente abbiamo sentito poco e nulla di queste musiche. Ma io già dentro di me sentivo una crescente emozione. Questo ovviamente vuol dire che hanno fatto un ottimo lavoro a livello appunto musicale. E per il resto sarà un gioco comunque da vivere. Perché bisogna un attimo capire in che modo e da che momento principalmente si ricollega al primo. Perché io non ho ben capito. Magari qualcuno di voi mi potrà rispondere a questa domanda. Se si tratta di un sequel o di un prequel. Ma io credo si tratti di un sequel. Comunque perché lei ragazzi a fine trailer dice tutto quello che ho fatto. Tutto quello che ho vissuto mi ha portato qui. Ha voluto dire ergo non mi tirerò indietro no? Da quello da questo tuffarsi in questa pozza d'acqua. Indipendentemente da quello che le dicevano le voci di fare. Perché dicevano no adesso cosa ti succederà? Cosa ci succederà? Non sarai capace di sostenere tutto questo? Torna indietro fondamentalmente. Invece lei nonostante tutto evidentemente nonostante la paura dice Sono stata portata fin qui da tutto quello che ho fatto. Andrò avanti. Quindi bisogna un attimo semplicemente capire in cosa consisterà il suo viaggio in questo Hellblade 2. E sono ragazzi che dire cioè veramente stupita. C'è sensazioni tipo super positive. Non avevo alcun dubbio al riguardo. Quindi già avevo tanto hype prima. Ne avrò tantissimo ancora di più adesso. Perché tra l'altro sarà giocabile anche su Game Pass. Perché io ragazzi non ho console Microsoft mai avute. E non penso che ne comprerò. Quindi il fatto che lo mettano disponibile su Game Pass per poterlo giocare su PC è una cosa meravigliosa. Nel senso ragazzi giocabile al day one. Pagando solo abbonamento Game Pass. Io credo che da questo punto di vista Microsoft stia cent'anni avanti Sony. Mi dispiace dirlo perché lo sapete che io sono fan di Sony da sempre ragazzi. Ma questa cosa qua dell'abbonamento Game Pass che ti dà tutti questi giochi. E ti dà la possibilità di giocarne di nuovi al lancio. Credo che sia una cosa assolutamente impareggiabile. Un gioco addirittura del genere ragazzi. Cioè nel tipo Microsoft wow. Cioè te do volentieri i soldi che pago mensilmente di Game Pass. Ne vale assolutamente la pena. E devo solo sperare insomma che il mio PC sia in grado di sostenere questo gioco. Come vi dicevo inizio video. Come al solito ragazzi mi farebbe piacere vedere, leggere qua sotto in sezione commenti. Quelli che sono stati i vostri pareri, le vostre sensazioni riguardo questo nuovo trailer. Voglio sapere se avete intenzione di giocarlo al lancio. Se vorrete aspettare. Se avete giocato anche il primo. E se avete hype per questo Hellblade 2. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E buon dà ciao a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao. 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 Grazie a tutti.